Non si trova in condizioni di difficoltà. Allora, io ho posto la questione sgarzolina al nostro avvocato, un po' cercando di percepire quello che può essere una situazione. E questo dà a lei un po' un assist? Certo, lei ha fatto una corretta obiezione. Tuttavia, mi sento di dire che qualora la moglie, al termine del percorso matrimoniale, in sede di divorzio, non abbia risorse economiche e ci sono ragioni obiettive che impediscano alla moglie di reperire risorse, e quindi si trova in una situazione di poter accedere concretamente al mercato del lavoro, ebbene, mi sento di dire che è molto probabile che venga riconosciuto comunque un assegno divorzile alla parte economicamente debole del rapporto coniugale, ormai è estinto. Perché? Perché comunque l'assegno divorzile ha una funzione di solidarietà e questo non viene meno con l'introduzione di questa sentenza. Sono gli stessi giudici della Cassazione che nel loro iter argomentativo riconoscono comunque la funzione solidaristica e non più perequativa dell'assegno divorzile. Laddove la moglie dimostri, con documentazione o anche con semplici presunzioni, la sua impossibilità di reperire un lavoro per l'età, per il sesso, per le condizioni di salute, quindi di poter rientrare o entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, io ritengo che il giudice debba riconoscere l'esistenza del nuovo criterio della non autosufficienza economica e quindi obbligare l'altro coniuge a riconoscere un assegno di mantenimento in sede divorzile alla moglie. Ci spieghi un attimo ai nostri telespettatori, non avezzi, le questioni giuridiche di diritto, perché adesso viene tanto, data tanto auge e anche forza, queste sentenze della Cassazione, cosa che un tempo non era così. Poi per carità sono intervenuti anche dei magistrati, anche da noi in trasmissione, hanno sottolineato. Adesso la giurisprudenza è molto pesante, molto condizionante, diciamo, in certo qual modo. Quindi ci stiamo portando verso una forma quasi di diritto, di tipo anglosassone, in certo qual modo. Cosa che invece prima era il testo di legge, che andava interpretato, però contava più la dottrina che non la giurisprudenza. Nelle ere passate sta cambiando qualcosa. Perché quindi viene data così enfasi? Cosa deve spaventare o non spaventare, allertare, quando si parla sentenza della Corte di Cassazione? Che fa notizia dei giornali, secondo lei. E quanto invece è, diciamo, esagerato? Secondo me dipende da una cultura giuridica italiana, tale per cui è più semplice far passare l'idea che con una sentenza della Cassazione si modificano istituti giuridici che trovano una disciplina normativa, piuttosto che andare a studiare la disciplina normativa e verificare nel concreto che non è sufficiente una sentenza della Cassazione per modificare la disciplina normativa di un istituto giuridico. Cosa intendo dire? Intendo dire che a livello mediatico dell'informazione colpisce di più una sentenza, magari anche originale, tra virgolette, piuttosto che lo studio accurato della norma sulla base della quale poi le sentenze vengono adottate. La sentenza è un prodotto di un'interpretazione di una norma. Le sentenze sono di diverso tipo. Io direi che questa sentenza che è stata adottata recentemente in materia di assegno divorzile è una sentenza che tiene conto dell'evoluzione negli ultimi anni dell'idea del matrimonio e interpreta anche l'idem sentire, il modo di percepire il matrimonio nella società italiana e dà un'interpretazione delle norme e con un risultato che ci consente di dire il precedente orientamento non va più bene, ma solo per questa sentenza a sezioni semplice. Io, come ho già detto, è possibile, ritengo di poter dire che fra qualche settimana, fra qualche mese, è possibile che una nuova sentenza a sezioni semplici dica una cosa contraria, cioè che su uniformi alcun si dato orientamento, a quel punto si porrebbe un problema di contrasto giuridico e dovrebbe essere risolto da una sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione. Quindi io non drammatizzerei più di tanto, nel senso che la tutela dei diritti non dipende dalle sentenze della Cassazione, ma dipende da un'applicazione rigorosa delle norme che deve essere affidata a dei professionisti preparati, che abbiano una particolare sensibilità in questa materia, che abbiano esperienza e che si confrontino anche con giudici che abbiano altrettanta preparazione e sensibilità per trattare questa materia con una certa cautela. Ci sono interessi rilevanti, interessi di natura economica, ma anche ci sono interessi altrettanto importanti, quali sono quelli della tutela dei minori. E questo è un altro capitolo importantissimo, perché c'è l'aspetto economico, per carità, però diventa secondario. Non creare traumi ai minori e gestire, riuscire a gestire al meglio questi rapporti dove esistono dei minori in una situazione molto aperta, perché poi si creano famiglie sempre più estese, eccetera, e questo destabilizza un contesto sociale. Certo. I genitori, quando si recano da un legale per cercare di trovare una soluzione alle loro vertenze in natura familiare, che può essere una separazione, un divorzio, di solito sono animati da sentimenti di animosità, risentimento, addirittura anche odio e spirito di rivalsa. Ora, questi sentimenti chiaramente non consentono di trovare una soluzione ideale per la tutela della famiglia. Io ho sempre detto che in caso di separazione, in presenza dei figli, la famiglia rimane sempre in piedi, perché il collante della famiglia è dato alla presenza dei figli. Dopo la separazione, i coniugi interrompono il loro rapporto coniugale, ma la presenza dei figli deve imporre loro di capire che la famiglia rimane, perché dovranno comunque occuparsi dell'educazione, dell'istruzione e del mantenimento dei figli. Ora, tutto questo lo si può fare se i genitori dialogano tra di loro. Mi rendo conto che è molto difficile. È molto difficile perché prevalgono quei sentimenti negativi che non consentono di riattivare canali di comunicazione tra i genitori per gestire al meglio, per esempio, l'affido dei figli, i tempi di permanenza dei figli con i genitori non collocatari, i diritti di visita, ci sono molti comportamenti ostruzionistici, per esempio alcuni genitori che impediscono all'altro genitore di poter vedere i figli. Questi sono comportamenti che alla lunga pregiudicano esclusivamente gli interessi dei minori. Allora, quando qualcuno si rivolge al mio studio e viene da me per essere tutelato, io mi preoccupo, prima ancora che gli interessi del cliente che viene da me, mi preoccupo di capire innanzitutto se ci sono dei figli minori, perché sono le parti più deboli delle vertenze in natura familiare. Io sono iscritto anche all'AIAF, che è un'associazione italiana di famiglia degli avvocati, che ha uno statuto ben preciso. Questo statuto ci impone di tutelare nel miglior modo possibile i minori coinvolti in vertenze in natura familiare, che siano separazioni o divorzi. E questo cosa significa? Significa che l'avvocato deve avere un approccio, una mentalità, una sensibilità completamente diversa da quella che si può avere quando ci si occupa di altre questioni. bisogna avere bene in mente che qualsiasi cosa si faccia per la tutela del proprio cliente, che evidentemente è uno dei due genitori, ha ripercussioni dirette o indirette sul minore. Io ritengo di occuparmi prevalentemente del minore, di fare scelte che abbiano come punto di riferimento la tutela esclusiva del minore. Questo lo faccio presente fin da subito al mio cliente. Io ho tanti clienti, per mia fortuna, alcuni clienti hanno un eccessivo risentimento nei confronti dell'altro genito. Quindi c'è questo discorso che riscontra? Certo, nella mia quotidiana professionalità lo riscontro. Io sto parlando appunto perché me ne occupo prevalentemente di queste questioni. e io sconsiglio direttamente al cliente di continuare a tenere questo tipo di condotte. Cerco di farlo riflettere, cerco di fargli capire che una soluzione concordata è la migliore delle soluzioni possibili. Perché? Perché all'interno di una controversia in natura familiare sono talmente tante le questioni che devono essere sviscerate, esaminate, valutate, che pensare di devolvere esclusivamente a un organo giurisdizionale la soluzione di queste problematiche è, a mio modo di vedere, una mera illusione. Ritengo che i genitori possano trovare in sede di trattativa per venire a un accordo, per una separazione consensuale, un divorzio congiunte, ampia soddisfazione per la tutela e le loro esigenze, per quanto riguarda l'affido condiviso, i tempi di permanenza del genitore non collocatario con il figlio minore, per quanto riguarda la disciplina delle spese straordinarie. Ci sono tanti aspetti che possono essere, diciamo, oggetto di trattativa concordata, che consentono alle parti di ottenere poi che cosa? Un accordo che sarà sempre più soddisfacente perché condiviso, piuttosto che subire, a distanza anche di tanti anni, un provvedimento giurisdizionale magari insoddisfacente per entrambe le parti. Perché c'è forse il convincimento che la parte terza, ovvero il giudice, sia arbiter di queste decisioni e possa farlo nel miglior modo possibile. Questo è quello che dovrebbe essere, è quello che è, diciamo, il mondo ideale. Poi in realtà i giudici hanno tante cause di cui occuparsi. E quindi mi rende sento sarebbe meglio risolverlo a monte e portare... E' meglio risolverlo con la consapevolezza del fatto che un avvocato che si spende tanto per trovare un accordo è un avvocato che, contrariamente a quello che si può pensare, non fa i suoi interessi economici. Perché è evidente che un accordo consente di ottenere un risultato in tempi più brevi. L'attività professionale dell'avvocato è meno impegnativa e quindi le spese legali sono anche inferiori. Io questo lo faccio sempre presente ai miei assistiti. Ma viene ascoltato. Vi conviene, adesso le spiego, vi conviene trovare un accordo anche per motivi economici. Perché la vostra tutela legale vi costerà di meno. E otterrete dei risultati in tempi più rapidi. Ora, lei mi dice, vengo ascoltato o meno? Naturalmente dipende dalle circostanze. Cosa intendo dire? Intendo dire che le persone in una prima fase hanno questi sentimenti negativi che impediscono evidentemente di trovare un accordo. Il lavoro dell'avvocato è quello di far capire che questi sentimenti devono essere messi da parte. Ora, la professionalità dell'avvocato arriva fino a un certo punto perché noi non siamo onniscienti, non siamo psicologi, non siamo psicoterapeuti. Abbiamo una formazione esclusivamente giuridica. Però ci sono degli strumenti che nella mia esperienza professionale ho trovato molto utili. Io assisto diversi genitori in situazioni molto problematiche dove il conflitto è molto esasperato. In questi casi può capitare che si sia costretti ad accedere in una prima fase a un conflitto, quindi a un processo contenzioso, salvo poi ottenere su sollecitazione anche degli avvocati e delle parti una sospensione del procedimento da parte del giudice che può suggerire alle parti di iniziare un percorso, per esempio, di mediazione familiare. Ecco, può essere, questo è molto importante che lezzo, può esserci un percorso di mediazione familiare. Io vorrei dedicare un attimo, qualche minuto, alla mediazione familiare perché è molto importante, estremamente interessante, forse non da tutti così conosciuta e compresa. Allora andiamo in pubblicità con i pochi secondi, poi ritorniamo e vediamo di capirla meglio.